con il frame chiave possiamo stabilire manualmente la velocità della nostra animazione per poter editare un frame chiave è necessario che i punti di controllo siano più di due il funzionamento è abbastanza semplice in pratica se abbiamo due punti di controllo il primo e l'ultimo l'immagine sorgente si muoverà da un punto all'altro per quanti sono i frame di destinazione nel caso di specie 18 mentre se aggiungiamo altri punti succede che i frame si frazioneranno in base al numero dei tratti del tracciato nel caso di specie ci sono due tratti pertanto 18 frame diviso 2 avremo 9 frame per ogni tratto se i punti sono equidistanti il movimento sarà lineare se invece spostiamo per esempio il punto intermedio sulla nostra sinistra cosa succederà? che nel primo tratto considerato che il movimento sono di 9 frame da un punto all'altro avremo una decelerazione mentre nel secondo tratto avremo una accelerazione il movimento sarà più veloce lo stesso effetto possiamo ottenerlo gestendo i nostri frame chiavi allora torniamo ad avere il nostro punto equidistante allora che cosa andiamo a cambiare? andiamo a cambiare la velocità con i nostri frame in pratica dal primo punto al frame chiave ovvero il punto intermedio dove andiamo a modificare i frame chiave decidiamo per avere una decelerazione è necessario che i frame siano maggiore di 9 ad esempio mettiamo 12 ok? praticamente dal primo punto al punto intermedio l'immagine sorgente si muoverà di 12 frame e dal punto intermedio all'ultimo si muoverà per i restanti 6 frame cosa succede se andiamo a digitare un valore fuoricampo errato? per esempio ipotizziamo di inserire 20 non ce lo dà perché il numero dei frame gestiti è 18 e comunque ipotizziamo di inserire 18 che cosa stiamo dicendo in pratica? è che dal primo al punto intermedio l'immagine sorgente si muoverà per tutti i frame a disposizione ma questo non è possibile perché dal intermedio all'ultimo è 0 non esistono frame infatti se noi andiamo a digitare andiamo a dare l'esecuzione al plugin avremo un errore l'errore dice praticamente che frame chiave 18 al punto 2 più alto o uguale all'ultimo frame gestito avremo un errore per evitare questo errore inseriamo 17 per cui avremo dal primo al punto intermedio l'immagine sorgente si muoverà di 17 frame e dal punto intermedio all'ultimo di un solo frame insomma arrazzo diamo anteprima animazione e possiamo applicare il nostro filtro in questo caso dare l'anteprima oppure eventualmente l'ok con questo è tutto ciao